e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità proprio come nel video di oggi perché oggi vediamo le cinque date disponibili in calendario cinque date calde disponibili in calendario per quanto riguarda il pagamento dell'assegno unico di marzo partiamo da qui allora da qualche giorno l'inps ha iniziato a produrre a fare e mettere i pagamenti per quanto riguarda le date di assegno unico di marzo queste date sono diciamo sono varie quindi adesso vi dico anche quali sono diciamo che i pagamenti riferiti alle mensilità di marzo sono diciamo più che altro concentrati nella seconda parte del mese di marzo quindi una prima parte è già stata fatta l'altra riguarda la seconda metà di marzo poi un'altra informazione interessante e che riguarda appunto l'assegno unico i pagamenti saranno fatti con i nuovi importi aumentati grazie proprio alle maggiorazioni che sono state introdotte nell'ultima legge di bilancio e poi oltre alle maggiorazioni ci sono anche le rivalutazioni causate dall'inflazione ma ora vediamo bene le date le date calde prendetevi nota prendetevi carta e penna prendetevi nota e scrivetevi queste date avremo il 17 di marzo il 20 di marzo 21 di marzo 23 di marzo e 24 di marzo ricordatevi solo che comunque le date possono cambiare da persona a persona da famiglia a famiglia perché appunto non sono non sono fisse non sono uguali per tutti diciamo che quelle sono date calde a partire da quelle date e comunque pare normale pare che un normale dicevo che l'inps potrebbe presentare anche altre nuove date di pagamento vi invito sempre comunque a verificare eventualmente il vostro fascicolo previdenziale se ne avete la possibilità entrando sul sito internet dell'inps con username e password oppure ancora più semplicemente basta che se siete iscritti al mio canale di youtube seguite i miei video così vi dico io le date e non dovete stare a impazzire a cercarle da voi bene con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi vi ricordo che più tardi questa sera uscirà un bellissimo video con un altro super super aggiornamento quindi non vi perdete il video di questa sera come sempre noi ci vediamo in un prossimo video solo sull'unico canale originale di youtube il mio aspetto ciao